buongiorno breve video su quello che è un passaggio importante la luna nuova in acquario di questo 21 gennaio 2023 perché secondo me è un passaggio importante anzitutto perché 21 gennaio inizia anche l'anno astrologico cinese l'anno cinese facciamo così quindi che tra l'altro è un anno il cosiddetto anno del coniglio il cambio di energie è che anno scorso non so se vi ricordate l'anno era della tigre quest'anno è l'anno del coniglio e cambia la tigre è un animale aggressivo il coniglio è un animale tranquillo questo cambio di energie è abbastanza forte andiamo a stiamo per iniziare oggi un anno molto ricco l'anno del coniglio è un anno di abbondanza ok quindi un anno molto ricco in cui ci sarà una maggiore propensione alla all'abbondanza e alla serenità ok serenità che di solito viene dato dalla pace all'affetto eccetera eccetera proprio relativamente a questo chiaramente se parliamo di abbondanza potremmo anche di fortuna quando parliamo di abbondanza a mi piace sempre ricordare che noi abbiamo gli strumenti per creare e voi sapete che io questa cosa ci tengo particolarmente e questa luna nuova in acquario ci aiuta a plasmare ci aiuta a creare una nuova realtà quindi è molto importante è una luna che si crea mentre saturno e venere sono in congiunzione in acquario quindi abbiamo bisogno di mettere ordine abbiamo bisogno di dare spazio all'amore ma in una maniera che è più ordinata cosa intendo siccome saturno è anche il re del karma ma di quel passato che spesso ritorna beh questo è il momento giusto con questa luna nuova di oggi di fare dei buoni propositi di esprimere dei buoni propositi e per buoni propositi intendiamo quelli di avere amore abbiamo venere in acquario di avere amore ma di averla in una maniera per la quale non dobbiamo pagare un prezzo perché noi spesso ci aspettiamo più che ci aspettiamo ci comportiamo come se l'amore dovesse essere pagato chi ci ama deve essere retribuito non è così o se abbiamo amore dobbiamo in qualche modo ricompensare no non è così in quanto umani siamo degni di amore amiamo e siamo degni di amore lasciamo stare abbandoniamo abbandoniamo tutti i vecchi percorsi tutti quei percorsi che ci hanno fatto anche male tutti quei percorsi in cui ci siamo sentiti costretti a pagare un prezzo costretto è una parola dura ma in cui abbiamo in qualche modo abbozzato ecco facciamo così ok pur di avere no non è così noi dobbiamo avere basta ok indipendentemente da quanto diamo quello è un altro discorso quindi questa sera alle 20.53 circa la luna si forma in acquario l'acquario è governato sappiamo in parte da urano anche da in parte da saturno ma anche da urano le cose possono cambiare improvvisamente ricordiamocelo cerchiamo di mettere ordine di chiedere ok di esprimere più che altro più che chiedere di esprimere la nostra apertura a ricevere amore incondizionato che è la parola fondamentale del sentimento di amore questa è la sera giusta per ricevere amore incondizionato poi ci arriverà in qualche modo riusciremo a capire come fare per realizzare i nostri buoni propositi i nostri propositi i nostri propositi in generale con questo saturno ok quindi arriverà abbiamo ricordiamoci che abbiamo tra l'altro giove che guarda in maniera positiva questa luna nuova ok quindi anche da un punto di vista lavorativo se ci mettiamo tutta oltre che l'ordine l'organizzazione ma l'impegno beh abbiamo grandi possibilità di riuscita quindi mi raccomando questa è una giornata particolarmente impegnativa dal punto di vista energetico non negativamente questa luna nuova ci spinge a trovare ad aggiustarci tra virgolette ok ad aggiustare le cose che non vanno a trovare l'ordine anche in una maniera abbastanza repentina ma soprattutto la cosa importante è che abbiamo la possibilità di reinventarci in amore ok settimana molto bella luna nuova ok molto molto bella da questo punto di vista il potere dell'inizio come dice qualcuno è con noi la luna nuova dà inizio a un nuovo ciclo di luna ok lo dà in questo particolare caso in acquario quindi tra l'altro è la prima perché è pure importante è la prima luna nuova dell'anno si apre l'anno si apre l'anno cinese del calendario cinese si apre l'anno della luna ok della luna nuova quindi guardate quanti nuovi inizi oggi ok andiamo avanti ricordiamoci poi che questa luna nasce in opposizione al leone al lilit che è il leone l'italiano è io sono l'affermazione dell'io ok e allora affermiamo mandiamo questa affermazione all'universo io sono io valgo ok perché abbiamo anche quello che ci arriva in questo esatto momento cerchiamo di auto affermare la nostra identità sia come soggetto lavorativo professionale eccetera sia come soggetto emotivo capace di ricevere amore ok questo è molto molto importante ok il mio breve discorsetto tra virgolette sulla luna nuova di oggi che ripeto nasce in congiunzione con venere e saturno che sono in acquario anche il sole in acquario è una luna nuova che secondo me molti di voi questa sera che andranno a scrivere le loro affermazioni come dico spesso io sedetevi concentratevi accendete una cannella bianca e concentratevi ma cercate di dare ascolto a quello che veramente avete dentro senza condizionamento non è semplice io ve lo dico ecco perché vi chiedo di concentrarvi molti di voi chiederanno una riconciliazione mi è venuta proprio questa carta però sono convinta che in qualche modo in tanti di voi proprio perché è una luna che nasce nel segno della tra virgolette ribellione in tanti di voi nascerà quel bisogno di indipendenza di rinascita ma rinascita reale nel senso di prendere coscienza con la parte più rivoluzionaria anche di noi ok più indipendente ecco più indipendente di noi è un amore non è mai dipendenza mi soffermo sul punto dell'amore perché da qualche tempo ho notato che c'è una sorta di tentativo di rialzare la testa molti di voi che vivono rapporti affettivi in cui come dicevo all'inizio sono convinti che per ricevere bisogna dare molto di più e che sono legati da rapporti veramente quasi di catena beh cominciano a capire che c'è un gioco in quest'amore l'amore non è mai gioco e con la luna nuova in acquario quello che dobbiamo fare è chiedere un amore incondizionato e libero ok non soltanto l'amore chiaramente qui chiediamo l'abbondanza qui chiediamo la messa a posto delle situazioni che non vanno questo lo chiedono tutti chiaramente ok però questo è il momento giusto per seminare ok seminiamo dentro di noi l'idea di qualcosa di nuovo se non la seminiamo dentro di noi prima non possiamo rimandarla all'universo ok è stato molto veloce è stato molto vi faccio presente quello che secondo me è basilare poi dopodiché ognuno di questi inutili ne faccia quello che vuole io spero che per oggi riescano ad essere messi online perché è il cattivo tempo c'è dato il K.O. tecnico proprio ci sta andando però speriamo che oggi vengono messi online ok vi saluto per adesso bye bye ciao